yugio a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi siamo qui con l'opening di un prodotto molto particolare che molto probabilmente non tutti voi conoscono ovvero il team di redox si tratta di un team uscito nel lontano 2013 che se non erro è uscito o a settembre o a novembre dicembre vi dico così perché la konami all'epoca non fece uscire i team dei quattro draghi tutti insieme ma li separò in due ondate differenti detto questo prima di incominciare vi ricordo come sempre che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da card game corner il mio sponsor trovate il link del loro store qua sotto in descrizione e se utilizzate il codice sconto 2023 cappello potete ottenere il 10 per cento di sconto su carte singole e o prodotto sigillato che non è soggetto ad altra offerta inoltre se volete liberarvi di carte di yugi magic pokemon dragon ball one piece force will e digimon trovate il mister con questo in descrizione contattatemi e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare detto questo io passerei subito a vedere cosa contiene questo prodotto ea quali carte possiamo andare a trovare all'interno di questo prodotto possiamo trovare due buste di tacchion galaxy una busta di giocco giudizio alla luce e due buste di spettri nell'ombra in più una carta rara segreta di redox che è il mio ruler preferito spero che un giorno lo sbanneranno vabbè poi quattro carte super rare tra cui lupo feroce diamante numero 88 burrottino arnese libro di magia del maestro e alzarango magico forza di varian tutta roba abbastanza inutile per il formato attuale detto questo quale sono le carte migliori che possiamo trovare all'interno allora in lord of the tacchion galaxy possiamo trovare va bene a parte 107 ghost che sarebbe incredibile poi abbiamo incanatrice arpia libro di magia del giudizio che è stato sbannato e non sarebbe male cosacco che si può giocare in cash tira e poi vabbè ultimate a caso in giudizio della luce possiamo trovare mangiatore di stelle ghost che anche questo non sarebbe male visto che li ho tutti smintati poi abbiamo storaldino livello 2 onesto e diciamo di roba pseudo interessante cioè la roba pseudo interessante finisce qua e per concludere abbiamo spettri nell'ombra che è quello che mi gasa un po' adeveno però abbiamo felgrand ghost ma lucarda anche questo non è malino è vero c'è numero 46 che sta tanto numero 65 come rara non sarebbe male ma forse forse quasi che è meglio c'è anche mistake a forse usciva da le collezioni leggendarie sì quindi no questo non lo possiamo sbustare ma quasi quasi che è meglio questa che l'altra che giudizio la luce adesso andiamo a vedere perché nel caso se esce una ghost è tutto che riguadagnato qualsiasi espansione sia allora io procederei e mi prendo tutto il tempo di questo mondo visto che è un prodotto che è rimasto sigillato per gli ultimi nove anni e oggi sono arrivato io ad aprirlo molto fiero diciamo che sono molto contento perché non l'ho mai aperto perché all'epoca non avevo un euro quindi diciamo che è un enorme soddisfazione mamma mia quanto è bello è praticamente perfetto questo sicuramente entra nella collezione nel senso insieme a tutti gli altri team l'unica cosa è che ha qualche ammaccatura allora ragazzi che fiero mamma mia ste robe non le vedo più da almeno dieci anni allora allora apriamo lentamente che non voglio rovinare niente ovviamente le staple senza bustina protettiva messo discretamente bene palesemente già smintato poi abbiamo lupo feroce diamante anche questo bellino poi numero 88 e no vabbè libro di magia del maestro che era la sua prima reprint e poi l'alzarango magico di cui non frega niente a nessuno ok mettiamolo qua a fianco come porta fortuna comunque ragazzi come ho recuperato questo prodotto allora attualmente queste sono le rimanenze che diciamo non so i magazzini hanno ritirato fuori quindi io almeno questo l'ho trovato da gamestop anche se 30 euro è un po tanto qua poi abbiamo il foglio con tutte le news mamma mia che cosa bella è rimasto lì dentro per nove anni e poi abbiamo queste cinque bustine incredibili ovviamente tutte in seconda sfortunatamente comunque sono sempre pezzi di storia considerando poi che io questo meta me lo sono giocato e cioè io adesso ho 26 anni cioè ad aprile ne faccio 26 all'epoca ne avevo 17 porca troia allora io partirei da giudizio della luce e vediamo se riusciamo a tirare fuori qualcosa di carino comunque ragazzi cioè i pacchetti si aprono di con una facilità disarmante la colla è praticamente andata poi se non c'è niente si risigillano e si vendono come nuovi abbiamo bestia fantasma meccanica coltro toala poi bougie in tartaruga fratellanza pugno di fuoco caribù chip 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 questo da me era diventato un meme poi ah è vero qua non c'è 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 la rara che al posto la rara ci sarebbe stata la foil quindi niente questo pack è andato un po' da merda comunque ragazzi questo è il set da cui uscivano le trappolatrici e se eravamo fortunati beccavamo il meleo abbiamo poi nefentes ghoul orrore umbral ma dolce ciocco pollo e il furetto del fuoco schermidore diciamo che nella situazione brutta c'è andata bene perché nel pratico abbiamo trovato la roba di merda nel pacchetto più brutto quindi da qua mi posso aspettare nel pratico roba bella oppure sono rimanenze con praticamente zero foil non c'è neanche la soddisfazione di dire vabbè anche se va male è andata bene perché comunque le super qua non erano assicurate quindi è un po' è un po' la situazione del cazzo allora dovrebbe essere a quattro il trick uno due tre fammo tre per adesso abbiamo gianci fantasma trucco poi strega fantasma trucco piccolo procione tatana che nel set se non sbaglio c'è anche l'altro livello due poi scomparsa fantasma trucco drago albero mitico ogni ventre giallo poi pugil indomido gardna che merda che merda poteva essere il livello due ci ho sperato ci ho sperato perché sta tipo a 4 5 euro e poi scudo drago quindi abbiamo capito che il trick è a 4 9 3 andiamo adesso con il secondo pacchetto di spettri nell'ombra sperando di trovare qualcosa di decentere non dico di andarci in plus perché non ci credo però dai almeno la soddisfazione di beccare una bella foil sarebbe top abbiamo bugin cinghiale scia del serpente sacro ah ok non ho fatto il trick a 4 1 2 3 e 4 e andiamo a vedere no no mi sono già spoilerato la carta ecco volevo volevo la foil ecco porca troia marigna la principessa dei girasoli che puttana allora vabbè dai o meglio di niente queste sono le carte di merda che si sbustavano nove anni fa poi abbiamo druido scudo in trigo pavento fantasma trucco gagaga segnale potenziamento sovrapposizione di numeri e gigante arcidemole a ok quindi c'è sia la rara che la foil quindi il trick è a 3 quindi non mi ero sbagliato prima fermi ragazzi prima di continuare con lo spacchettamento se questo video vi sta piacendo e se siete arrivati a questo punto probabilmente sì vi ricordo di mettere mi piace iscrivervi a voi non cambia niente ma me da un enorme supporto e mi permette di far arrivare questi video un po tutta la community detto questo se l'avete fatto vi ringrazio e adesso vi lascio continuare il video allora andiamo con il signore della classe attacchionica e vediamo se da qua posso tirar fuori qualcosa che poi io nelle edicole io ho anche trovati questi pacchetti che sono delle rimanenze ovviamente che sono stati ritirati fuori vediamo può essere che più avanti vi porto un altro lo spacchettamento vintage di roba che trovo a caso allora tiriamo fuori le carte senza sminchiare niente ci manca che sminto proprio la foil allora facciamo il trick 1 2 e 3 e vediamo se riusciamo a tirare fuori qualcosa abbiamo tridon scudo magno gioiello del valoroso dei gemnite se non ricordo male poi abisso scaglia qualo aquila steam drago sovrano delle gocce sarebbe bello trovare qualche ruler raro sarebbe un sogno della marina come rara grande balena peccato e come foil a costellazione sombrero dai va bene abbiamo beccato un'altra super che comunque era il supporto forte di costella allora vediamo le condizioni un paio di puntini qua su in alto ma allora andiamo con l'ultimo pack e vediamo cosa riusciamo a tirar fuori dai ci vado come quando ero giovane sventriamo sto cazzo di pacchetto e tiriamo fuori le carte dai che comunque si è aperto anche relativamente bene allora trick 1 2 dai dai sarebbe bellissima l'agosto abbiamo pugile indominto casco sirene abisso cea formazione di fuoco kaito piccola fata persec il drago interstellare poi gagavento dai un blaster sarebbe bellissimo un blaster raro o un redox abbiamo bestia fantasma meccanica lega lupo e vediamo come ultima eh niente un burner va bene dai almeno il piccolino dei ruler l'abbiamo trovato peccato ragazzi è andata andata malino diciamo che poteva andare sicuramente meglio adesso penso a quelli che sono rimasti da game stop perché ok ne aveva sei io ne ho preso uno di questi probabilmente in tutti gli altri ci sarà ball ghost ultimate starlight non c'erano però sicuramente ultimate belle però non ci butterò altri 30 euro se questo video non va discretamente bene dipende se vedo un enorme supporto ne compro un altro dai mettiamola così sarebbe stato carino adesso beccare il piccolo redox almeno per memare padre e figlio però vabbè dai ma contento di del piccolo del piccolo blaster detto questo ragazzi state mesi e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti